Una trasmissione a limite dell'impossibile quella di questa oggi, quindi bisogna innanzitutto ringraziare prima di iniziare i nostri ospiti perché insomma sono leggermente bagnati ma insomma la situazione meteo a Trieste è poco tragica, nonostante non siamo in allerta meteo, c'è quando viene programmata l'allerta meteo, insomma c'è qualche visione lì, oggi c'è il disastro più completo, insomma è un classico, per cui insomma siamo piuttosto inzuppati, bagnati, siamo al pedocin anche se non sembra, però insomma visto che noi vogliamo bene, togliamo i nostri ospiti, non vorremmo che finiscano con una broncopalmonite a catinare, per cui abbiamo deciso di farla ovviamente all'interno, anche se al momento sembrerebbe che la pioggia per qualche secondo abbia smesso, ma sembra che continuava fino a stasera, per cui meglio non rischiare e tuteliamo prima di tutto la nostra salute. Trasmissione che non potevamo rimandare ovviamente questa, perché parliamo di lezioni europee, di quello appunto che è stato il risultato, anche per quel che riguarda gli scrutini, peraltro scrutini andati molto veloci, va detto uno dei più veloci di sempre, solitamente sono attività dei suoi ritardi, invece incredibilmente, forse anche per l'affluenza limitata che ha velocizzato anche il numero di votanti, per cui siamo già a verso le due o tre di mattina, si aveva già una situazione piuttosto chiara. Con noi due amici che ci vengono a trovare, quindi una sorta di giovani al voto, di primo comando, sembrava anche giusto, o peculiare, no? Giovani post voto. Giovani post voto. Ex giovani. Ex giovani no. Io sicuramente. E' così, è così. Giovani quando è nato, triste caffè. Esatto. E Emanuele Cristelli, Italia Viva, Stato Uniti d'Europa, poi andremo a capire se è il senso solo Italia Viva dopo il risultato. Ma per il momento Stato Uniti d'Europa, poi insomma valuteremo. Il grande Enrico Sossi, Movimento 5 Stelle. Salve a tutti, ciao. E grazie di averci ospitato qui perché veramente c'è un tempo. Dovrebbe essere una trasmissione così allegra, simpatica, al Pedocin con due partiti che, stando a previsione di aver dovuto a Stati Uniti d'Europa, superare ampliamente, 4,5-5%. E un 5 Stelle dato al 12-15, invece una trasmissione che va a essere una tragedia perché il tempo è un disastro. Stati Uniti d'Europa che non supera il 4% e il 5 Stelle che non arriva neanche al 10%. Nel suo essere un disastro è tutto coerente. Emanuele, prego, cominciamo. Intanto ringrazio chi ci segue da casa, ringrazio Luca per aver organizzato questo momento. Noi chiaramente come Stati Uniti d'Europa siamo delusi da questo risultato. Sarebbe ipocrita dire qualcosa che non sia questo. Quindi c'è tanta malezza, tanta delusione. C'è una constatazione, ovvero che sicuramente il crimine Europa non è dei più, diciamo, non ci fa ben sperare. Ecco, perché le destre comunque avanzano, seppur complessivamente i seggi non vanno ad aumentare parrebbe dalle proiezioni, però comunque i risultati nei paesi fondatori si pensi a Germania con Alternative for Deutschland, si pensi alla Francia con Marine Le Penso ma sicuramente non danno segnali positivi. Per quanto riguarda noi, chiaramente noi speravamo di superare, come diceva anche Luca, in maniera tranquilla da sogli di sbarramento, anche perché univamo due forze che avevano comunque un consenso d'opinione sufficiente da questo punto di vista, ai noi c'è da prendere atto che il nostro elettorato davanti alle divisioni purtroppo punisce queste divisioni perché coglie l'urgenza di una forza libera e democratica seria, credibile, che proponga un'alternativa al populismo sia di destra che di sinistra, però nel momento in cui non sei credibile l'elettorato sceglie la proposta che gli assomiglia di più, anche lontanamente, ma più credibile e più come voto utile. Quindi noi partiamo da questo presupposto, ovviamente noi siamo rammaricati dal fatto che parte del motivo di cui sopra, cioè della divisione, è imputabile a Carlo Calenda ma questo non deve essere chiaramente un alibi, c'è una bocciatura politica anche di Italia Viva, è inedibile questo e quindi questo sicuramente farà parte di una riflessione interna più profonda, quindi non ci esimeremo da analizzare in maniera seria il risponso E a questo punto un commento anche da parte di Enrico Sossi, un risultato che insomma neanche i sondaggi più nefasti davano a 5 stelle, perché effettivamente nessuno, insomma le previsioni davano a 5 stelle sotto il 10%, cosa non ha funzionato? Cioè evidentemente insomma 10 ore fa ci sono chiusi praticamente i seggi, però effettivamente ha questo risultato, il risultato dei più clamorosi in senso assoluto? E soprattutto, se la gente non ha votato 5 stelle, a chi è andato i voti? A Verdi, Sinistra? Allora parto collegandomi a quello che hai detto prima in merito al fatto che i seggi e l'operazione di scrutinio si è chiusa in veramente poco tempo, perché ero anche scrutatore e nel mio seggio... E' un voto rotolata praticamente Sì, però poco, perché abbiamo finito per l'uno e un quarto, nel senso che nella mia sezione su circa quasi 900 iscritte alle liste elettorali della mia sezione, ne ha votati poco più della metà, che in realtà rispetto alla percentuale a livello nazionale è poco più della metà, è anche un buon dato. Questo perché appunto a livello nazionale abbiamo avuto un astensionismo del 49,69%, quindi meno della metà degli aventi diritto al voto ha effettivamente votato e questo chiaramente è un segnale molto, molto, molto negativo del nostro contesto, del contesto politico in cui viviamo in Italia e non solo. Detto questo, parlando invece del risultato del Movimento 5 Stelle, chiaramente è deludente, è palesemente deludente, anche perché appunto non ce lo aspettavamo, nel senso che negli ultimi giorni ci aspettavamo un risultato appunto un po' più nefasto, però non sotto il 10%. Questo chiaramente è una responsabilità nostra, nel senso che quando si ottiene un risultato di questo tipo, sì, può essere per il fatto che è un'elezione europea e quindi magari può essere meno considerata agli elettori, può essere che magari era il tempo atmosferico e c'era il sole, può essere tanti altri fattori, però di fatto il fattore principale è che come Movimento 5 Stelle non abbiamo saputo comunicare al meglio il nostro modo di comunicare, di fare politica, le nostre pratiche e anche i nostri contenuti, anche perché noi ci teniamo molto a caratterizzarci per come noi intendiamo fare politica, per come effettivamente la facciamo, chiaro è che poi lo dobbiamo saper comunicare e molto probabilmente non l'abbiamo saputo fare. Successivamente a questo voto partirà, penso e spero, un processo di riflessione interna al Movimento 5 Stelle rispetto a cosa funziona e cosa non funziona, non c'è il modo migliore di pensare al proprio interno. Una bella analisi da sconfitta. Bisogna fare appunto un'analisi di quello che è stato il voto, di quello che è il Movimento 5 Stelle per poi ripartire e ripartire al meglio. È giusto anche per la simpatia nei vostri confronti per essere venuti che non sta il tempo di fare un primo cappello. Prima ancora di andare a leggere i risultati, andiamo a questo punto a leggere un attimo quelli che sono stati i voti principali a livello nazionale. Siamo ormai a 60.600, 4.500, perché ormai i risultati sono quelli. Fratelli d'Italia 28,8% direi che sostanzialmente ha confermato. Ha confermato esattamente. Sono gli unici, gli unici li hanno confermato. Sì, penso di sì, esattamente. PD 24% e 0,4% questo è anche un risultato molto altro rispetto a quello che si prospettava. La Sline ha preso il PD al 15%. Cioè addirittura qualcuno ipotizzava un PD sotto al 20% invece sta volando al 40% di Renzi, però comunque il 24% penso che siano più o meno i voti che aveva il primo PD di Bersani. 5 Stelle 9,98% per cui siamo lì sulla storia del 10% credo che cambi ben poco 9,98%. Ma 9,98%, 9,54%, 10,02% siamo sempre lì alla fine. Ecco, risultato che uno dei risultati che si appena di più è questa Forza Italia 9,69% con un Tajani che ha detto mettete il simbolo Forza Italia e scrivete Berlusconi, insomma, che danno. Quindi insomma è anche questo un risultato, se vogliamo, inaspettato, no? Perché comunque vuol dire che 2 milioni e 200 mila persone continuano a votare Forza Italia. Sì, probabilmente anche il fatto che la Lega di Salvini si è tendenzialmente spostata più a destra, verso l'estrema destra, anche con l'agritatura di Vannacci, quindi tutti magari quegli elettori che tendenzialmente sono più moderati di centro-destra, basti vedere anche l'appello di Bossi che all'ultimo ha detto che lui ha votato Forza Italia, chiaramente quella parte di centro-destra. Vorrei analizzare su questo, no? Entrambi. Ecco, ovviamente voi avete tanti amici giovani, frequentate i gruppi giovani. Quanti sono tra i vostri amici giovani che votano Forza Italia perché un giovane vota Forza Italia? Se posso parlo io così? Ma secondo me, parlo per la mia cerchia, io non conosco nessuno che voti Forza Italia. Conosco tanti che votano PD, tanti che votano la valenza per di sinistra, 5 Stelle. Io, se vediamo anche lo spaccato, leggevole su Utrend, Forza Italia non è esattamente tra i primi partiti fra i giovani, quindi io non credo che sia imputabile a quello, diciamo, il risultato. Il risultato di Forza Italia è imputabile al fatto che, come anche accennava Enrico, Forza Italia, ricordiamoci sempre che c'erano molte voci critiche in Forza Italia sulla onnipresenza di Berlusconi fin quando era ancora in vita. Cioè c'era comunque una quota di critici verso la presenza di un leader vecchio che non era in grado comunque di interpretare le nuove esigenze. Tajani era assicurante, Tajani ha trasmesso quella sicurezza di chi voleva dare un voto moderato senza buttarlo. Questa è la verità, che è anche imputabile e quindi è una delle nostre colpe. Quindi secondo me su quello. Quindi non tanto i giovani quanto la rassicurazione che ha dato ad altre fasce di elettorato che speravano in un voto moderato e di non buttarlo via. Sì, esattamente. Io personalmente non conosco giovani che votano Forza Italia. Nel senso che se conosco giovani che votano centro-destra votano per tendenzialmente Fratelli d'Italia. Però Forza Italia non mi risulta. Chiaramente, come abbiamo detto, è un voto che ha potuto rassicurare quegli elettori di centro-destra e di altre fasce d'età che magari prima avevano votato la Lega. In effetti, prendiamo poi a vedere a livello poi di Triveneto, per cui comunque un pubblico molto magari più a destra, però comunque un pubblico anziano, il 7% ha fatto Forza Italia, perché comunque ha avuto un voto più basso. Andiamo ancora sotto, la Lega 9-08. Anche questo effettivamente, insomma nel derby contro Forza Italia, insomma al photo finish, perché sono 120 mila voti di differenza, ha perso, ha perso un 9%, era più o meno la percentuale che si aspettava, perché era data dall'8, 9, 10, per cui sopra. E più delle politiche. Sì, eravamo lì, esattamente. Un po' più delle politiche. Chiaramente è da notare questo cambio del target della Lega di Salvini, chiaramente in una destra più... Diciamo che c'è da analizzare anche l'effetto vannacci, perché prendere poco più di mezzo punto dalle politiche, però con senso a balanga per una figura che oggettivamente esce dalle coordinate tradizionali della Lega, deve far interrogare... E che molto spesso si dissocia anche dalle dinamiche interne, non vuole... Esatto, deve far interrogare i famosi moderati della Lega. E quindi la domanda è, a questo punto la Lega ha preso 2 milioni di voti, Vannacci sembrerebbe su 500 mila, perché vuol dire che ha fatto il 25% di voti per Vannacci in totale. Vannacci è pronto per un suo partito? Mi sembra una... Già, 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 già... E' pronto per fare il leader ombra della Lega? Sì, eventualmente sì, e secondo me in realtà è pronta anche una spaccatura. Scissione? Non dico una scissione, ma certamente una spaccatura, hanno anche annunciato il congresso in autunno, è chiaro che la Lega degli inizi che parlava di autonomia e di federalismo non esiste più. Non ha molto a che fare con la Lega della Decima? Non ha molto, esattamente, esattamente. Cioè Salvini che va al seggio e dice ho fatto una bella decima, mi sembra, non vedo cosa c'entri con la Lega degli inizi che parlava di federalismo, parlava di autonomia e tuttora in alcuni posti, in alcuni luoghi nel nord-est, in Veneto, in alcune parti del Friuli parlano ancora di federalismo e autonomia. E andiamo alla grande sorpresa, quello magari che forse può avere un po' eroso i voti al Movimento 5 Stelle, ovvero l'Aleanza Verdi e Sinistra. L'Aleanza Verdi e Sinistra era adatta più o meno come percentuale a livello di Stati Uniti d'Europa. Effettivamente il risultato è clamoroso, un risultato del genere non si vedeva, credo, da dieci anni, dei tempi di sale di vendola. Molto più alto di sale di vendola. E poi se sommiamo il PD, comunque un PD Schlein a sinistra, 24, più l'Aleanza Verdi e Sinistra, se siete comunque fanno il 31% eh? La polarizzazione si sta verificando in questo Paese perché evidentemente, come ho ribadito già, l'elettorato non vede alternative e quindi in conseguenza la polarizzazione paga, paga sicuramente. Sì, è un risultato inaspettato, nel senso che comunque sono contento per loro perché comunque conosco alcune persone che militano e fanno attivismo con l'Aleanza Verdi e Sinistra e sono persone anche molto brave. Nessuno si aspettava comunque questo tipo di risultato. Probabilmente una parte, ecco, forse del nostro elettorato è anche andata lì. Comunque si tratta dalle elezioni europee di un voto, alla fine di un voto d'opinione e per un motivo o per un altro comunque alcuni elettori potrebbero aver scelto... Se posso fare giusto in amicizia, io credo che l'ambiguità di Conte, nel momento in cui gli si chiede chi sceglie e preferisce tra Biden e Trump, faccia differenza in questo elettorato. Io credo, e quello è un aspetto che secondo me, ahimè, sancisce anche uno spartiacco, no? Cioè uno di Sinistra e Verdi, anche con tutte le differenze, tutte le critiche, non potrebbe mai porsi in maniera equidistante tra i due, no? Questo credo che abbia pagato su un certo tipo di elettorato di cultura progressista. Io credo che quello sia stato un problema. Ma io vedo che sulle questioni di politica estera siamo abbastanza allineati anche su quella che la... il conflitto sia esero-palestinese che quello russo-ucraino, quindi in generale sulla politica estera c'è una sintonia abbastanza forte. può essere, insomma, anche adesso non ho seguito esattamente la loro posizione sulla questione Trump e Biden, che io in realtà condivido la posizione del movimento, nel senso che prendere una posizione adesso non ha senso, per il fatto che al fine se uno diventa Presidente del Consiglio, con uno o con un altro comunque deve parlare e deve discutere come alleati. E quindi non penso che quella sia stata una delle questioni preponderanti, ecco, della scelta di quel partito rispetto al Movimento 5 Stelle. E ora ovviamente passiamo ai dati nefasti della corpia, Renzi e Calenda, li mettiamo assieme, no? Perché alla fine il numero di voti più o meno si, insomma, si equivale. Allora, praticamente, sono riusciti tra Stati Uniti e Europa, no? Enrico, ci provochiamo un po', Emanuele, a fare il 7% in 15 partiti, perché ho fatto ora la somma, ecco, diciamo, quindi praticamente vuol dire con il polito valore del 0,5% più o meno. Diciamo che le biciclette, gli accorotti, non so cosa sia, i tandem, diciamo che non hanno mai pagato realmente nella politica e questo penso ci debba essere di lezione. Come dicevo prima, ahimè c'è un tema, quest'area qui è un elettorato molto esigente, è un elettorato che si spacca anche per cose molto, molto, molto marginali, diciamo che non brilliamo in termini di capacità di sintesi, credo che sia giusto il momento di una riflessione interna a entrambi i partiti, io ci metto anche più Europa, anche se più Europa potrà anche fare valutazioni diverse, perché sappiamo avere comunque un rapporto privilegiato col PD, ma c'è un tema di leadership, c'è un tema di leadership e di capacità di creare una sintesi nuova, perché l'elettorato c'è, cioè questo milione e passa di elettori ci sono, quindi vuol dire che nonostante la polarizzazione, nonostante il fatto che ci siano le questioni geopolitiche internazionali che vanno a polarizzare ulteriormente, comunque questo elettorato esiste, queste persone prendono la scheda elettorale e ancora ci danno fiducia, quindi io credo che questa fiducia vada con risposta a una presa di responsabilità, credo che nelle prossime ore, nelle prossime settimane quest'area politica qua debba fare un reset, io credo che sia evidente sotto gli occhi di tutti, piccola notazione, a Trieste saremmo la quarta-quinta forza politica, con 5 mila voti di lista insieme, che non è esattamente poco, io quindi sono qui a dire mi mangio le mani, perché pensare che una forza del genere nelle grandi città possa essere la quarta-quinta forza politica, chiaramente fa amareggiare un po' tutti. Io chiaramente spero che riescano comunque a raggiungere il loro obiettivo, nel senso che da esterno vedere queste forze politiche che la pensano grossomodo, appunto nello stesso modo discutere per personalismi dei loro leader politici e quant'altro, mi rattrista perché so che dietro ogni forza politica ci sono delle persone nei territori che dedicano tanto tempo e ci credono, credono in quello che fanno, quindi chiaramente spero che queste persone vengono ascoltate e che riescano a trovare una sintesi. A questo punto direi di passare a Trieste, esattamente Trieste e provincia, andiamo a vedere molto velocemente, poi andiamo a vedere le preferenze ovviamente sul nord-est, Fratelli d'Italia 27-25, insomma si conferma, pensavo a Trieste magari una posizione superiore rispetto, però il tuo sommato ha mantenuto a 27, PD 24-1, la Lega 11-69, dunque voglio dire comunque il boom della Lega, la presenza di Fedriga fa la differenza, e anche forse di Anna Cisint, ha preso 5500 preferenze a Trieste, ha addirittura quasi doppiato Vannacci, per cui il tuo sommato ha piaciuto l'effetto Cisint, Allianza verde-sinistra-Trieste è 8,38, è una potenza. Il voto nei comuni del Carso penso abbia inciso su questo. Sì e chiaramente poi anche come vediamo qua dallo schermo, anche poi magari le persone che hanno candidato, vedo qui appunto numerose preferenze per un candidato rispetto ai voti di lista, quindi vuol dire che hanno espresso anche delle buone candidature per il loro elettorato. 5 stelle invece 7,21, che clamoroso, perché effettivamente questo è più un dato da comunali o da elezioni regionali e locali, solitamente a livello europeo piuttosto che nazionale, i 5 stelle a Trieste hanno sempre avuto dei percentuali comunque molto più interessanti, importanti. Le ultime politiche prima erano uguali? 7,21? 8, 8 e mezzo. Allora comunque è calato rispetto anche alle politiche del 2022, chiaro è comunque che un tempo nelle elezioni politiche e le elezioni europee c'era più, c'era un'influenza maggiore. Stamattina ho guardato le preferenze, ho visto comunque che c'è una buona, una grossa parte che ha votato la nostra candidata Sabrina Pignedoli, ora non ho avuto notizie in merito la sua effettiva elezione o meno, ma teoricamente dovrebbe essere eletta, quindi fortunatamente potremo continuare le nostre battaglie su Assange, la battaglia sul nuovo via e quant'altro di nuovo in allo Parlamento. Adesso veramente però dobbiamo aspettare le conferme ufficiali perché devono un attimo finire lo scrutinio. Forza Italia 6,43 è un altro dato clamoroso, pace, terra, libertà 4,41. Per loro mi sembra comunque un buon risultato. Direi straordinario, per 4,41 vorrebbe dire se... Nel punto nazionale appunto non hanno raggiunto la soglia, a Trieste sì, conosco anche un po' di loro, sono veramente brave persone anche loro, quindi sono contento che anche loro abbiano portato il tema della pace in auge anche a Trieste. Emanuele, come ti spieghi il fatto che a Trieste pace tra libertà e per un punto in più gli Stati Uniti d'Europa? Ma diciamo che Trieste è abbastanza abituata a dati un po', come si può dire, fuori dalla media nazionale, basta ricordarsi il dato delle comunali con il voto per la lista di 3V, non li sto chiaramente associando, sono due voti diversi, però su Trieste c'è comunque una contaminazione culturale di influenze anche con quelle che sono il passato di questo territorio, quindi le culture che sono presenti, che porta anche a delle distorsioni nel voto rispetto a quello che è quello nazionale. A me non mi sorprende che ci sia questo voto, anche perché comunque c'è una base importante di civismo, di attivismo, anche di una certa area politica, di sinistra, progressista, quindi non mi sorprende sinceramente come cosa. Vediamo come lo tradurranno, anche perché come sappiamo qui abbiamo una lista civica che si chiama adesso Trieste, che da quanto mi passo di capire non si è esposta, non ha deciso di schierarsi su un unico soggetto politico, quindi è probabile che ci sia anche un po' di questo elettorato che non identificandosi ha scelto una soluzione politica. Questa è un'ipotesi, poi bisognerebbe vedere i flussi nelle sezioni dove ha votato, dove non ha preso di più, ma questa è roba da feticista. A questo punto Enrico, ovviamente prima di concludere un po' i dati, passiamo Nord-Est, quindi circoscrizione nostra, quindi andiamo a vedere sia i voti che le preferenze ovviamente, quello clou. Fratelli d'Italia boom nel Nord-Est, 34%, un elettore su tre nel Nord-Est ha votato, 5 anni fa più o meno la Lega ha votato, un votante su tre ha votato, e più o meno 5 anni fa 40-42% la Lega, per cui più o meno potrebbe essere quello il vaccino. E andiamo alle preferenze, vabbè, Giorgia Milone 58 mila preferenze, anche qua magari uno può valutare, si aspettava di più o di meno, di 58 mila. Secondo, e questo qua non ho sbagliato io, perché Frivenzia Giulia, quindi ho fatto io un piccolo errore, aspettate. Nel Nord-Est, ecco, nel Nord-Est, fatta l'Italia, a livello regionale, Frivenzia Giulia 34%, a livello nel Nord-Est, 31-91, comunque sopra media, e Giorgia Milone, infatti, 500 mila preferenze ottenuto nel Nord-Est, per cui così. Ciriani è arrivato, quinto, quindi praticamente quarto col fatto che la Milone eluncerà, con 43 mila preferenze, dunque penso che col 31% quattro dovrebbero farci. L'Elina Donazza, un secondo, ha 62 mila preferenze, Cavedagna 54, Berlato 45, Ciriani 43, per cui la foto finish è arrivato, perché avete terzo. Pd, Pd, Bonaccini, 380 mila, beh, insomma, diciamo, l'hanno pompato bene, no, Emanuele? Alessandro Zano, 91,6, beh, diciamo, la diatriba nazionale, vannacisana, ne hanno beneficiato entrambi? Un po' come Meloni e Schlein, uguale, uguale come cosa. Poi Alessandra Moretti e Elisabetta Gualmini, l'hanno disaccordato, più o meno erano quelli i nomi che ci si aspettava, 25,77, anche qua leggermente sopra media. La Lega, ecco, la vera sorpresa è la Lega, vannacci 140 mila preferenze, ma soprattutto al secondo posto Anna Cisint, 41.700, ve lo aspettavate questo risultato boom di Anna Cisint, che probabilmente le permetterà di andare in Europa la Lega? Sì, penso sia, penso fosse scontato. Ha strumentalizzato come poteva tutti i temi della sua amministrazione comunale, illudendo i cittadini che lei avrebbe risolto i temi di Monfalcone, e invece li ha usati per andarsene in Europa. Quindi adesso i cittadini di Monfalcone sappiano che si ritroveranno senza il sindaco che prometteva di risolvere i grandi problemi di coesione sociale della loro città. Quindi quando si illudono i cittadini, come si dice, tecnicamente truffa gli elettori, si può avere successo, chiaramente. Lei è riuscita e adesso andrà in Europa e i cittadini di Monfalcone aspetteranno di trovare qualcuno che risolverà i problemi, insomma. Lei sicuramente non li risolverà più. Lei ha raccolto appunto i voti di quelle persone che soffrono maggiormente il fenomeno dell'immigrazione che in realtà loro stessi non riescono a risolvere, quindi anche lì è un po' un paradosso. Ed è stata abbastanza brava con il pretesto di Monfalcone a raccogliere questo tipo di voti. E a farne una battaglia nazionale anche. Esattamente, perché poi abbiamo visto comunque che era ospite anche di programmi tipo a livello nazionale. Certo, c'era il quattro. Sì, comunque se l'è giocata abbastanza bene, mi sembra da dire, no? Sì, sì. E a questo punto, no, Enrico e Emanuele andiamo a Monfalcone a vedere cosa hanno votato i monfalconesi, perché effettivamente quello è un po' il clou, no? Sì. E la Lega a Monfalcone ha tenuto il 33%, per cui era abbastanza, diciamo, scontato. Per quanto a Monfalcone effettivamente non è che sia una città da 8 milioni di abitanti, dunque comunque il 33% equivale a 2.900 preferenze. Su 3.000 preferenze andiamo a scoprire che Anna Cisinta ha preso 2.500 preferenze. Voi erano stati belli vicini da Bulga, proprio meglio. Sì, sarebbe stato strano se non fosse... Diciamo che c'è abbastanza contiguità elettorale, dai. E lo parlo che aspettavate con cosa di più rispetto a Monfalcone, sindaco da 9 anni, 76% di preferenze, tre anni fa, 2.500 preferenze. C'è un risultato buono per lei o magari lei si aspettava qualcosa in più? No. Ma sì, diciamo che alla fine Santa Seleva ha preso alle amministrative, no? Sì, sì. Ecco, quindi è anche un voto differente quello delle amministrative. Quindi a mio parere comunque è riuscita un po' a confermare questa cosa perché chiaramente poi lei adesso potrà uscire e comunicare dicendo che lei ha ricevuto a livello nord-est, in circoscrizione nord-est, quelle tot numero di preferenze e quindi che ha avuto la fiducia, chiamiamola, dei cittadini. Quindi secondo me lei ha ricevuto una sorta di... sarà più confidente ecco adesso nelle sue azioni politiche. E ricordiamo che comunque il ruolo di sindaco di Monfalcone non è incompatibile con l'Europarlamento, dunque lei può rimanere comunque anche sindaco a Pordenone e a Monfalcone. Enrico, andiamo a questo punto e andiamo a vedere le vostre preferenze anche. Movimento 5 Stelle, praticamente mancano ancora 100, 200, 6G ma più o meno. Sabrina Pignedoli, 14.700, ma forse la sorpresa, o dirai se ho sorpreso o meno, il secondo posto, Ugo Biggeri, 10.400. E il terzo posto, la Tristina Martina Pluda, quindi bisogna dire che comunque Martina Pluda è ovviamente il mondo degli animalisti, per cui siamo molto attivi in quell'ambiente lì, 6.400 preferenze. Sì, allora, beh innanzitutto come dicevo, per il fatto che Sabrina Pignedoli, la nostra europarlamentare uscente, ha preso il maggior numero delle preferenze, chiaramente probabilmente ci garantirà che sarà lei ad entrare in europarlamento per la nostra circoscrizione e per il Movimento 5 Stelle. Era molto probabile appunto che comunque nella top 3, nei primi 3, vi fossero anche Ugo Biggeri e Martina Pluda, essendo comunque anche loro nei primi posti in lista. È stato fondatore di Banca Etica e Martina Pluda, chiaramente per il suo associazionismo animalista. quindi chiaramente alcuni di questi candidati sono riusciti a raccogliere un po' di elettori che magari di base non ci avrebbero votato, però è comunque da inserire nel contesto complessivo che come Movimento 5 Stelle abbiamo avuto un risultato deludente. Comunque è da notare che è stato anche premiato dai nostri elettori, da chi ci ha votato, l'operato di Sabrina Pignedoli. Quindi penso che lei sarà anche più forte e contenta di continuare sul lavoro in europarlamento. E passiamo a Stati Uniti d'Europa a questo punto, anche qua mancano 176 gibo. Allora, sorpresa o meno ce lo dirai tu, ovviamente il capolista era Watson, che è arrivato terzo al momento, se un foto finisco il secondo. Antonella Soldo la prima, poi tu ci dirai se è una sorpresa o meno, che comunque ha fatto 10.700 preferenze staccando di un 30%, il secondo Davide Bendinelli 7.600 più o meno, Watson 7.4, Giulia Pigoni 6.3. Te lo aspettavi, chi ti ha deluso e chi invece ti ha sorpreso? Ma allora, parliamo di nord-est e poi vorrei fare un piccolo focus su Giulia e Giulia. Ma allora, chiaramente ci si aspettava un po' tutti che Antonella Soldo prendesse il pieno di preferenze, anche perché lei, per chi segue un po' la politica anche meno dentro i palazzi, lei è la coordinatrice nazionale di Meglio Legale, quindi tutta l'organizzazione che promuove la partecipazione relativa alle battaglie sulla cannabis legale. Quindi comunque è un esponente importante di più Europa, è conosciuta anche in molti ambienti che sono anche fuori dall'ambiente storico radicale, quindi noi ci aspettavamo un risultato comunque importante. Prendiamo atto anche del risultato positivo di Davide Bendinelli, candidato di Italia Viva, che è il presidente regionale di Italia Viva in Veneto. Chiaramente Watson, io penso che sia un risultato straordinario per lui, perché lui è scozzese, vive in Toscana da 30 anni con la sua moglie, grazie alla quale sposandosi si è naturalizzato italiano. Venire, fare in un mese di campagna elettorale nel nord-est, dove lui non ha nessun tipo di radicamento, eccetera, e convincere molte persone, vuol dire che comunque come scelta politica simbolica, ovvero quella di scegliere una persona che si è battuta contro la Brexit e che spiegasse quali potessero essere i problemi e le criticità della Brexit, evidentemente ha pagato, perché altrimenti una persona senza radicamento non riesce a fare questo risultato. Un buon risultato anche di Giulia Pigoni, una trentenne candidata di Italia Viva, anche lei è andata molto bene, anche su Trieste. Un piccolo focus solo a livello FUG, siamo soddisfatti anche del risultato dell'unica candidata in parte friulana, che è Gabriella Chiellino, che è un'imprenditrice del settore ambientale, molto affermata, giusto per parlare di cose di casa nostra, ha dato tutte le valutazioni di impatto ambientale della nuova piattaforma logistica dei tedeschi in Porto, quindi un lavoro considerevole per la città anche, e si è affermata con quasi un migliaio di preferenze in regione. Noi come Italia Viva abbiamo sostenuto, pur essendo un candidato civico, perché ritenavamo avere le caratteristiche per poter andare, quindi noi come Italia Viva, facendo anche una scelta un po' diversa rispetto a quello che ci aveva detto il nazionale, nel senso che noi abbiamo sostenuto i nostri candidati Italia Viva, ma abbiamo scelto anche di indicare come terza preferenza, quindi uno sforzo in più, una figura che fosse del territorio, e quindi noi siamo soddisfatti per questo risultato, sicuramente. Benissimo, direi a questo punto di fare un passo avanti. Questo risultato influirà, secondo voi, sulla politica nazionale, sul governo, sulla posizione, sia a livello nazionale che a livello locale? Enrico? Ma forse anche sì, nel senso che gli equilibri del centro-destra, con questa crescita inaspettata di Forza Italia, rispetto anche alla Lega, potrebbe cambiare l'equilibrio all'interno della maggioranza di centro-destra, sia al governo che magari anche in qualche governo locale. Penso che però quello su cui debba ragionare di più e pensare di più l'intero arco parlamentare, quindi sia la maggioranza che l'opposizione, è chiaramente il dato dell'assenzionismo, perché vedere solo meno della metà, solo il 49-69% degli elettori che effettivamente va a votare, mi sembra che sia fallito l'intero sistema politico, quindi comprendente anche la comunicazione politica, comprendente anche l'informazione che è stata fatta in merito alle elezioni europee, e secondo me è da ragionare anche su questo. E spero che appunto le forze del governo, ma in generale anche tutte le forze presenti in Parlamento e non solo, facciano una riflessione su questo, perché è veramente importante. Commento quindi in generale su quello che è successo, l'andamento del voto, ma io dico semplicemente questo, la democrazia è in crisi e qualcuno ha ucciso la politica, nel senso che noi abbiamo un tasso di astensionismo che cresce, non sappiamo mai darci una risposta, o meglio, secondo me le risposte ci sono, ma non vogliamo darcele, e una delle risposte è una e una sola, questa è la mia principale, che noi abbiamo scelto deliberatamente di non attuare la Costituzione, ovvero che secondo la Costituzione i partiti sono l'infrastruttura democratica attraverso la quale i cittadini devono organizzarsi per realizzare la democrazia nel nostro paese. Questo vuol dire che se un'infrastruttura, come sappiamo tutti, un'infrastruttura ha bisogno di risorse, se quella infrastruttura non ha risorse per poter stare in piedi, la democrazia crolla. La politica, quando ha deciso di tagliare il finanziamento pubblico alla politica stessa, ha fatto un danno e un'attentata alla democrazia, perché i partiti, per poter portare le persone al voto, per poter spiegare e aiutare a capire la realtà, e interpretare quelle che sono le esigenze, non può che avere delle strutture capaci di essere capillari, per ascoltare le persone, essere presenti nei rioni, poter fare campagne di ascolto. Oggi i partiti non esistono, non abbiamo sedi, facciamo dieci banchetti se va bene quando ci sono le elezioni, non ci facciamo vedere, ci ritiriamo nelle tv. Questa non è politica, purtroppo. In America, che noi tanto critichiamo, perché sarà un'America dove prevale l'interesse privato, cattivi, brutti, lì aumenta la partecipazione del voto da vent'anni. Perché? Perché la politica è diventata un fatto pubblico. Non c'è il finanziamento pubblico, ma i cittadini donano continuamente alla politica, perché sanno che è un investimento sulla democrazia. Ecco, io penso che manchi questo, prima o poi forse matureremo consapevolezza su questo. Questo è un discorso che si faceva a noi Emanuele, come dire, un invito ai nostri lettori donati, Emanuele, Luca e Enrico. Anche perché Enrico è uno studente, io sono un giovane lavoratore, io non ho idea, ma lui avrà speso tanto, anche in termini economici, di risorse, per poter portare a una campagna in maniera totalmente gratuita da volontario, ma che non ha nessun senso. Perché fare il lavoro che fa Enrico vuol dire organizzare il consenso e dare rappresentanza, anche se non è lui candidato. Questo forse è il momento di riconoscere che è il tema. Cioè, la politica ha bisogno di risorse, altrimenti non esiste. Sì, il tema delle risorse è a quanto importante, nel senso che anche noi abbiamo visto che, beh, faccio la premessa, nel senso che noi come Movimento 5 Stelle di recente abbiamo accettato le donazioni che non sono donazioni. Il 2 per 1000. Il 2 per 1000, ecco. Il 2 per 1000 da parte, nelle dichiarazioni dei redditi, quindi nel caso mi serva il codice E54, boh, ma dopo se voglio... Dopo dirò il mio. Per paracondicio. E per il resto, in realtà, ci basiamo prevalentemente su micro donazioni da parte dei simpatizzanti e degli iscritti. Chiaro è che questo non è sufficiente. Di conseguenza, noi anche durante questa campagna elettorale abbiamo chiesto uno sforzo anche economico ai nostri candidati, anche semplicemente per avere il nostro casevo fisso in Piazza della Borsa, piuttosto che per avere i furgoncini, per andare ad affiggere i manifesti. I nostri candidati sono anche stati molto generosi con il nostro gruppo e in generale con il Movimento 5 Stelle e i gruppi territoriali e hanno dato una parte, appunto, un po' di soldi per finanziare questa campagna. Il tema del finanziamento, purtroppo, è molto, come dire, è difficile, ma allo stesso tempo importante. Secondo me, una grossa parte delle persone in realtà anche ha una sfiducia complessiva nei confronti della politica, quindi al di là di come la politica può anche comunicare, che chiaramente anche quello comunque è un problema, una difficoltà, comunque ci sono dei cittadini che magari non sono soddisfatti delle scelte degli ultimi, degli ultimi dieci anni, dei governi negli ultimi dieci anni e non solo, e chiaramente magari anche sommando il contesto internazionale in cui viviamo negli ultimi mesi, negli ultimi anni, potrebbe essere anche la causa di questo assesionismo, nel senso che può essere magari una mancata comunicazione o una comunicazione carente, però al suo tempo anche i cittadini anche vivono le scelte della politica e di conseguenza se i cittadini poi non ritengono essere vali del loro voto vuol dire che allora anche le scelte che fa la politica non sono sufficientemente buone o in generale soddisfacenti per i cittadini nel nostro paese. Come avete visto va a durare 20 minuti siamo già da 40 minuti ma era anche per ringraziare ovviamente i nostri ospiti che insomma che sono venuti anche perché visto che non piove ora continuiamo affinché non ricomincia così dopo quasi Emanuele può mangiare registriamo per le prossime volte no no così dopo essi sia troppo facile uscire esatto siamo arrivati qua con il dilufting sì esattamente ci mancherebbe tanto facciamo entrare anche la seconda ospite tanto è un minuto trovo vabbè cammina dove vuoi manca ancora un minuto allora domanda locale 30 secondi a testa la giunta di piazza esce rafforzata da questo voto o sono due voti totalmente distinti? Sono due voti distinti esce rafforzato il centrodestra perché comunque il partito principale di centrodestra ha una crescita il secondo a questo punto partito possiamo dirlo cresce e quindi siccome è un dato positivo quindi ne esce la forza di centrodestra ne esce un po' indebolito secondo me di piazza come singolo perché chiaramente ormai è ineludibile la primazia di Fratelli d'Italia nelle coalizioni ovunque in maniera chiara e quindi credo che questa avrà ripercussioni future su Trieste ma anche in regione perché come ci ricordiamo perfettamente c'è il dibattito sul terzo mandato e credo che ci saranno ci sarà che discutere perché non credo che facilmente Fratelli d'Italia concederà un terzo mandato a Massimiliano Federica nel momento in cui giustamente anche c'è un consenso che va verso una mista quindi è giusto anche che loro propongano la loro ricetta politica anche in regione quindi io credo che ci saranno anche evoluzioni politiche non di poco conto sì io penso che appunto come centrodestra la loro maggioranza si sia rafforzata nel senso che comunque come partiti facenti parte della coalizione centrodestra hanno avuto un buon risultato complessivamente messi insieme e chiaramente si è confermato quello che già era il primato di beh in realtà diciamo che si è arrivato il primato di Fratelli d'Italia che prima un po' forse si poteva contendere con la Lega e questo potrebbe ecco portare a un qualche tipo di cambiamento piuttosto che qualche tipo di movimento all'interno delle giunte locali anche appunto sul tema del terzo mandato nella nostra regione che è sentito appunto specialmente tra le forze della maggioranza di centrodestra bellissimo perfetto ricordiamo prima di concludere di portarvi in giro l'ombrello perché potrebbe piovere di nuovo anzi l'ombrello non serve a niente perché un ombrello e magari dei remi un gommone un keyway anche non so sempre quei mezzi militari degli anfibi dell'esercito sottomarino sì sì esattamente benissimo ringraziamo per stati con noi i due amici di Trieste Cafe che ci sono venuti a trovare a poche ore dalla fine degli scrutini anzi scrutini ancora in corso perché mancano quella 406 ma era giusto fare questa trasmissione ringraziamo Emanuele Cristelli per Stati Uniti d'Europa Italia Viva ringraziamo anche Enrico Sossi del Movimento 5 Stelle ricordiamo che domani martedì 11 giugno dalle ore 20 faremo la maratona dedicata alle elezioni avremo per Stati Uniti d'Europa e per il Movimento 5 Stelle avremo Paolo Menis per cui avremo il terreno e poi avremo tanti altri esponenti avremo il PD avremo i Verdi che vedremo i trionfatori e poi avremo tanti altri partiti e andremo un po' a analizzare il panorama complessivo anche a questo punto vediamo se vengono già fuori anche se non so chi chi beccherà i seggi ma non so se in 24 ore si riuscirà a costruire anche sì perché comunque Ligendo come abbiamo visto ha innovato parecchio è abbastanza veloce tra l'altro per chi è interessato Ligendo mostrerà anche lo spaccato sezione per sezione quindi uno può andare a vedere anche sezione per sezione i voti le preferenze eccetera io faccio il complimento anche perché ho conosciuto il direttore generale dei servizi elettorali del ministro dell'interno e stanno facendo un ottimo lavoro è un bel sito mi hanno dato in crash benissimo per cui facciamo i complimenti anche per questa bella iniziativa un saluto a tutti ricordatevi che siamo che ci pioverà fin stasera per cui insomma se potete state a casa non credo che potranno farlo e ci vediamo fra qualche minuto per la seconda parte della trasmissione tra poco ben on ben on grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti